Durante il lockdown, con le attività chiuse e ancora fino ad oggi, oltre 350.000 persone hanno contattato le ACLI di Roma e provincia, una lunga richiesta d'aiuto. Sono persone che già erano in uno stato di grande vulnerabilità, ma altre sono persone invece che sono diventate più fragili proprio con la pandemia. Persone che ci hanno chiesto lavoro, ci hanno chiesto diritti e tutele. Ora le ACLI sono riunite in un congresso davanti all'icona antichissima di Santa Maria in Portico, dove i Romani nel 1656 chiesero aiuto contro la peste. Oggi non c'è solo la nuova peste, il Covid, c'è anche un'economia da ricostruire e questa macchina solidale, che sono le ACLI, ha elaborato molte proposte, quattro le priorità. Un lavoro dignitoso, uno stato sociale che non sia assistenzialismo, la scuola e infine la partecipazione attiva. E infatti, a pochi mesi dalle elezioni di Capitoglio, lo slogan è quasi una provocazione. Siamo tutti candidati, non ad una carica, ma ad affrontare insieme i problemi.